Chi sei? Luigi. Caputo Francesca. Anni? Quasi 39. 31. Chi è l'altro? Francesca. Luigi Cuscito. Dove vi siete incontrati? Sul treno? Non mi ricordo. Sul treno a Bologna. Chi dei due si è accorto prima dell'altro? Ah, io. Forse lei. Colpo di fulmine o lento innamoramento? Lento. Lento innamoramento. La faccia più brutta che sai fare? Come lo chiami in intimità? Amore. Tanti nomi. Cicina, amore. Chi dei due decide le vacanze? Lei. Io. Come sempre. Tutto. Chi fa le faccende domestiche? Lei. Ma, tutti e due. Chi si occupa di più delle cose che riguardano tutti e due? Lei. Quando siete soli, ti parla in dialetto oppure in italiano? No, io l'ho chiesto e non parla. In italiano, qualche volta in dialetto. Scegli un aggettivo per lui, buono o cattivo? Buono. Generosa. Bello o brutto? Brutto. Bello. Vincente o perdente? Vincente. Vincente. Da quanto state insieme? Sei anni. Sono otto anni. La prima volta che l'hai visto, cosa hai pensato? Eh, simpatica. Ride sempre. Come ti vedi a cinquant'anni? Capelli bianchi, barba bianca, un po' gobetto e senza forza. Con i capelli bianchi, ma sempre con lui. Ordine o calzini per terra? E da parte mia? Per lui o per me? Per me a terra. Ordine, calzini per terra. Chi dei due è più bello? Io. Io. Ricco? Lui. Pari. Simpatico? Lui. Io. Geloso? Io. Lui. Generoso? Io. Generoso, sempre lui. Coccolone? Io. Coccolone, io. Brontolone? Lei. Brontolone, io. Fai un urlo. Dille una cosa che non gli hai mai detto. Oh. Questo è sempre tutto. Una cosa che non gli ho mai detto. Rompiscatole? No. Detta così. La frase che ti dice quando vuole essere carino? Amore. E poi prosegue. La frase che ti dice quando si scoccia? Che palle. Vai via. Hai trovato la lampada di Aladino. Tre desideri. Uno per te. Stare con lui tutta la vita. L'eterna giovinezza. Uno per lui? Che non si scoccia di me. Vincere al superenalotto. Così mi sistemo anch'io. E uno per voi? Uno per noi. Stare sempre insieme, dai, è sempre quella. Futuro insieme? Vediamo se avete gli stessi gusti. Piatto preferito? Pasta a consumo. Lasagna. Anzi, cannelloni. Posto di vacanza preferito? Mare. Un'isola tropicale. Cantante preferito? Capifini. preferito? Vasco. Bagno o doccia? Doccia o doccia. TV in camera o libro sul comodino? Libro sul comodino. Mi sono di due. Cosa vi piace fare nel tempo libero? Andare a correre, fare sport. Io vado in palestra. Qual è il suo hobby preferito? La palestra. Non le ha. una cosa di cui non ha paura? Non ha paura degli insetti. No, non lo so. Una cosa di cui ha paura? Ha paura? Io la lascio. La solitudine. Qual è la vostra canzone? Ehi, è una canzone di Gankster Paradise. La nostra canzone è Julio Dangerous Minds, il film. Come si chiama la canzone? Non mi ricordo, però è quella. In che cosa è la migliore del mondo? In tutto. In che cosa è migliore nel mondo? Del mondo, sì. Nella bontà. In che cosa è la peggiore del mondo? No, 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 no. È tutta buona. Nella precisione. Litigate? Sì. Certo. Dopo il matrimonio più o meno coccole? Sì. Speriamo. Sì. Prendi da così, che non ci sono cambiamenti. Dile una cosa in cui dovrebbe cambiare? Essere meno pronto loro. Meno precisione. Questo sicuramente. Vedi una cosa in cui deve restare con me? La sincerità. Simpatia. Allora, se mi volete scusare, vi sposiamo. Volete voi unire il matrimonio, amarvi e rispettarvi finché morte non vi separi? Sì. Baciatevi. Un messaggio, una raccomandazione per gli invitati. Non fate troppe critiche. Fate un porpenno. Ciao. Ciao.